Tante emozioni al palapanini di Modena per la giornata conclusiva dell'International Roller Cup che ieri ha visto sfidarsi i più grandi campioni internazionali del pattinaggio artistico. 4 le squadre presenti tutte abbinate a uno sponsor Cimar, Siac, Roll Line e Resport. A trionfare è stata la squadra Roll Line composta dalla fluricampionessa mondiale Deborah Sbey, dalla coppia argentina Florenza Moiano e Javier Anzil bronzo ai mondiali 2013, dal vincitore della Coppa Italia Andrea Raku e dalla coppia danza vice campione d'Italia e del mondo Melissa Cominde Candido e Daniel Morandin che sulle note di Liziano Ferro hanno incantato il pubblico. Scenografie studiate nei minimi particolari, abiti spavillanti e tanta professionalità. Questi gli ingredienti che hanno entusiasmato le tante persone che hanno affollato gli spalti del palapanini. Tra gli uomini molto attesa la prova di Andrea Raku che sulle note di Michael Jackson ha lasciato tutti a bocca aperta. Grande successo anche per la festa Campioni sotto l'albero, il pre-show organizzato dalla Junior SAC a Modena che anche quest'anno ha coinvolto decine di piccoli atleti. E ancora Aggressive, Freestyle e Hockey, le altre discipline su Rotella che sono andate in scena venerdì e sabato. Tre giorni di gara in diretta su TRC per un'edizione che ha saputo stupire ed emozionare.